buongiorno benvenuti questa rassegna stappa di oggi venerdì 12 gennaio vi ricordo che questa sera come sempre ci abbiamo matrix 105 sulla radio 105 e soprattutto vi ricordo di andare sulla pagina nicola porro punto it per vedere quello che succede condividete se vi piace il video abbiamo finito di fare le presentazioni possiamo andare al dunque di questa giornata sui giornali oggi italiani ma non solo se c'è qualcosa di straniero che ci piace lo sapete che non ci tenere tiriamo indietro ma la cosa più incredibile di oggi secondo me è questa celebrazione dell'incontro tra macron e gentiloni in realtà a farla più di tutti questa frittata è il corriere della sera c'è quel sapore di loden che forse mi piace al corriere della sera da monti a letta gentiloni quando dei presidenti del consiglio si distinguono per non essersi distinti a corriere della sera piace e oggi il titolo il corriere della sera e nasce l'intesa italia francia ma quale intesa macron contento di come dice contento di confrontarsi con gentiloni un nuovo patto del quirinale stiamo parlando di minchiate un po alla farnesina ci sono stato nel 94 e so perfettamente quanto quali sono voglio dire gli orientamenti dossier le scritture almeno all'epoca che si cercavano di fare prima di queste bilaterali beh il successo che questa bilaterale evidentemente avuta è pari a zero ma sui giornali è pari a 100 sembra un nuovo accordo italo francese con la germania che in questo momento sta pensando ad affari suoi proprio di questa battita la notizia che forse la merkel è riuscita a fare pensa un po tu la grande coalizione diremo la grande capacità tedesca di fare la grande coalizione quando mi sembra che i tedeschi sono andati a votare non volendo la grande coalizione e soprattutto uno dei due partiti da grande coalizione ha promesso di fare la sua campagna elettorale proprio per non allearsi mai con la cdu della merkel ma se fosse stato in italia avremmo detto la solita trasformismo l'italiano però in germania è un'altra cosa ma lasciamo perdere ma io dico ma si può prendere per i fondelli gli italiani così tanto il grande accorto gentiloni macron ha soltanto un paio di mesi dal fatto che macron appena arrivato presidente della repubblica francese ci ha fatto un mazzo così sull'accordo tra fincantieri e san naser dopo un paio di mesi è andato a farsi giretti in medio oriente in libia e i suoi accordi in libia sulla scia del sarcosismo insomma sono quelli che ci mettono a noi in grande difficoltà ma perché ci dobbiamo fare prendere i fondelli io non ho retto cioè arriva macron a roma e tra l'altro il corriere che un giornale di milano attento che non viene che non indulge a questa specie di diciamo orgoglio romano di arrivare di vedere al curinale macron al colosseo macron insomma si fanno tutti prendere per i fondelli questo forse è il primo elemento della giornata è molto bello invece sul corriere della sera a parte sta stupidaggine della celebrazione della grandissima amicizia italo francese che c'è ma non è che macrono e gentiloni che la suggerono anzi macrono e gentiloni forse devono dissipare le ombre che ci sono state nei mesi scorsi beh insomma il pezzo il correre della sera che vale la pena leggere oggi è galli della loggia sono sempre molto critico con lui ma oggi quando parla di costituzione la prende per i fondelli la nostra costituzione e i grandi untori orgogliosi della carta più bella del mondo che non è assolutamente la carta più bella del mondo e a gente come me non piace per niente figlia di un patto catto comunista e in cui il tema della libertà è tenuto in secondo piano rispetto ai temi dell'uguaglianza della democrazia della solidarietà dell'amicizia dei popoli del lavoro mettetevi tutto quello che volete dei diritti di tutti senza nessun dovere senza l'unico diritto che avrebbe dovuto citare al primo articolo che è quella della libertà di ognuno di noi ma comunque galli questo lo scrive molto bello ed è interessante beh la cosa più incredibile oggi è che è avvenuta ieri ne abbiamo parlato un po' in radio ma non sufficientemente ne abbiamo parlato con vittorio feltri beh è la storia della par condicio sugli opinionisti in televisione soltanto voglio dire un mentalmente disturbato cioè qualcuno che vuole entrare nella vostra camera da letto decidere esattamente quello che dovete non fare ma pensare può aver pensato un regolamento tale per cui i giornalisti televisivi nei talk show devono invitare giornalisti e opinionisti che abbiano degli orientamenti che devono dire preventivamente per non rendere impari la competizione televisiva allora si parla di una stronzata di una e una una imbecillità che non ha nulla a che vedere con la neolingua di di orwell non ha nulla a che vedere con la fattoria degli animali non ha nulla a che vedere con è qualcosa di peggio perché all'agenzia delle comunicazioni della cadenza delle comunicazioni in italia pensano di avere i precox vi ricordate il film minority report in cui c'erano quei tre sott'acqua che prevedevano i crimini ecco questi già prevedono cosa possa dire travaglio feltri sallusti porro noi voglio dire abbiamo degli orientamenti politici è chiaro ma come si fa a pensare che ci sia incasellabile l'opinionista che appunto ha delle opinioni che non sono partigiane o sono orientate perché ognuno di noi c'è dei pregiudizi ma come si può pensare di fare la per condizio tra gli opinionisti il solo pensarlo vuol dire che abbiamo dei burocrati dei giuristi dei dei fenomeni della zecca carbugli che hanno un'idea della società devo dire come possiamo dire manipolabile della società medievale no allora io invito sallusti bam siamo sicuri che mi dirà certe cose invito feltri siamo sicuri che venite altre siamo sicuri che se invito non so sorgi non lo so mattarella i democristiani come li mettiamo in che quota la mettiamo i democristiani cioè con i giornalisti che non dicono mai un cavolo quanti ne conosco i giornalisti che non prendono mai una posizione però hanno quel sorrisetto vabbè insomma la trovo una roba ridicola oggi mi sembra che sallusti ma anche travaglio di questa cosa se ne occupino sui loro giornali la par condizio degli opinionisti è molto divertente il pezzo di rizzo su quelli delle sere che dice come certifico la posizione c'è forse un modulo da compilare cosa penso su queste su quest'altro ma fantastico ecco hai ragione françoise l'opinionista se di destra non andrà mai bene e mentre quelli di sinistra verranno considerati opinionisti neutri ma già me la vedo sta cosa fantastici bald boldrini e grasso sono appena entrati in questa formazione fatta da d'alema e da bersani e da altri e questa formazione non è che si è fatta perché no nasce una formazione politica per un'esigenza nuova no perché hanno litigato con renzi il segretario del pd quindi a storici deputati senatori segretari del pd lasciano il pd per andare in questa nuova aggregazione che si chiama liberi uguali arrivano boldrini e grasso che sono stati eletti nel pd ma da pochissimo e non pagano tra l'altro come grasso i loro conti al pd vanno in una nuova formazione con d'alema eccetera e che cosa dicono boldrini e grasso uniamoci al pd per le regionali lombardia e nel lazio che si terranno il 4 marzo allora io mi chiedo forse i precox dovremmo metterli nella casa di liberi e uguali ma se quel partito nasce come scissione del pd e soprattutto come si fa a dire questi geni mostruosi dicono ma insomma se non andiamo insieme eh che perderemo eh alle regioni ehm lombardia e lazio rischiamo di perdere come vede oggi il sondaggio di piepoli nel lazio perde perché i vanti il movimento 5 stelle e in lombardia perdono perché avanti fontana quindi dicono se la sinistra disunita perdiamo è esattamente quello che faranno d'alema e bersani nei collegi unilominali per le ben più importanti politiche forse non l'hanno capito grasso e la signora boldrini che tutti i collegi unilominali rischiano di essere fottuti il pd riesce riesce rischia di essere fottuto proprio perché c'è una parte a sinistra che li fotte allora siccome questo l'intento di d'alema e di bersani arrivano grasso e la boldrini dicono ah ma facciamo l'unità della sinistra ma è nato proprio per disunirla la sinistra questo partito e voi vi lamentate che si disunisce la sinistra io proprio sono quelle cose che io dico la politica veramente se volevate fare un partito tutto unitario caro grasso e boldrino boldrini potevate rimanere nel pd quindi non disperdevate voti e probabilmente queste elezioni sarebbero andate molto meglio per voi fantastica la foto del maiale che smuscina no come si dice i maiali ravana non so come si dice nel nella spazzatura di roma è fantastico mattia feltri che dice i maiali metafora nel blog grillo c'è scritto metafora dei personaggi che hanno gestito i rifiuti fino ad oggi cioè sarebbero dei maiali e il livello della raccolta dei rifiuti a roma questo scrive grillo cioè che sono la metafora dei personaggi che si occupano dei rifiuti peccato che questa cosa era scritta quattro anni fa quando governava il pd sono passati quattro anni ma diciamo pure che il pd non c'è più da un anno e mezzo ci risono ancora maiali e dice mattia feltri ma a gestire la città non ci sono più i maiali del pd ma chi sono i maiali del del movimento 5 stelle caro grillo nel frattempo c'è grande giallo sul fatto che il grillo si sarebbe stancato di fare politica sui giornali ci sono molto indiscrezioni su questo ecco esatto alessandro gru fulano vedi che non l'italiano è un per me una invenzione carlo buongiorno e anche olimpia i maiali gru fulano insomma non lo so dire e non sono bravo a ricordarmelo vi direi che per oggi è tutto giornali insomma per i prossimi mesi saranno molto politici ma l'idea che grasso e boldrini piagnucolano perché la sinistra si difende quando si divide quando loro per primi hanno contribuito a questa divisione è una cosa che dà il senso dell'ipocrisia di questi famosi uomini di stato ciao